Caggia Gioielli, gioielleria, argenteria, orologi. Da 30 anni, professionalità, qualità e convenienza al servizio del cliente. Cerchiamo di soddisfare le varie esigenze, spaziando dalle ultime tendenze ai classici senza tempo. Il regalo è qualcosa di speciale. Vi offriamo una vasta gamma di scelta. Orologi Sector Gioielli Capritali Rosari Amen Gioielli Brand Gioielleria con diamanti Valenzana Laboratorio di analisi gemologica con gemologo dell'Istituto Gemologico Italiano Certificazione Analisi di pietre preziose e blister di diamanti Caggia Gioielli vi aspetta in via Anfiteatro 199 Taranto e vi augura un felice Natale e un 2021 ricco di gioie e di soddisfazioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.